Barbara, Barbara, allora l'elicottero ha segnalato quella persona sulla spiaggia, ha chiamato la moto vedetta della guardia di finanza, come vedi i due finanzieri lo stanno raggiungendo ma lui ha aumentato il passo e sta scappando, quindi ora lo stiamo inseguendo, non so se si può vedere, i finanzieri hanno iniziato a correre perché lui si sta allontanando tra le case, eccolo lì, vedi Varo, lo stanno raggiungendo, eh no, è là, si, il pedone si sta asportando repentitamente per nascondere, il primo uomo è stato trafato, sono suoi uomini che non sono raggiungendo, allora vogliamo, state comunicando con i vostri colleghi giù? Sì, abbiamo subito allertato l'unità navale, è intervenuta arrivando sul posto e sono scesi due colleghi che hanno sceso.